Papà, papà, mi conto fatto quando un nonno con il tuo cuore afflitto mi ripetiva finì il tempo del rispetto. Papà, chi è il rispetto? O figlia lo rispetto e la virtù di ogni calabri si ha vinto fuori sto sentimento ora non c'è più finì il rispetto e finì l'onore e un nonno ricordando il suo passato a figlio l'anzo e la sua gioventù teniva il cuore tanto addolorato perché sti cosi ora non c'è più Ti ricordi papà? A gente diceva che un nonno era un malandrino un nonno era un vero malandrino per chi di cori era tanto buono l'onoreo corteva un toso giardino e l'ubertà uffici grandi a bene e a mali era sempre presenti eba che fare chi meglio briganti con malandrini e con delinquenti spartiva l'uso fuori a tutti quanti papà dimmi quei erano i tre cavalieri che un nonno sempre nominava i saggi cavalieri nominati furono tre santi edili sacri roti che di portare leggi onorati e tutti noi siamo assai devoti tre saggi che da Spagna si partirò e lì so' strati tutti li spianaro cercandomi le tante all'uso in giro che solo un da Calabria trovaro continua papà voglio sentire come finisce la storia continua continua i calabrisi sono nuve raggenti che hanno cuori nobili briganti rispetti e onori di lì più potenti e a generosità come alisanti così dopo tanti anni di lavoro la bella società la festeggiaro e a generosità come finisce la storia